Eccoci finalmente in Provenza in queste distesi di lavanda e questo colore, questo profumo bellissimo è un posto energetico che consiglio a tutti, qui proprio ti rendi conto come la natura ti avvolge il profumo, il colore e l'energia che trasmette è qualcosa di fantastico il colore che ti tocca col profumo al tuo nome Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti